Operazione dei finanzieri della compagnia di Civitanova Marche denunciati due soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti, sequestrati 55 grammi di hashish e 1440 euro in contanti ritenuti proventi del reato. Fermato e segnalato alla prefettura un soggetto terzo cliente di un pusher che si era recato a casa del fornitore per acquistare hashish e spinelli. Ad attirare le attenzioni dei finanzieri gli strani movimenti di persone e mezzi nei pressi di un condominio, le attenzioni degli inquirenti in particolare si sono soffermate su di un 22enne civitanovese nei cui confronti si è proceduto nell'effettuazione di una perquisizione con l'ausilio di un cane antidroga, rimanendo occultati all'interno di un mobile due pezzi di hashish per un totale di 35 grammi. L'attività ha poi interessato un secondo soggetto che poco prima si era recato presso l'abitazione perquisita. Lo stesso, anche egli, un 22enne, residente sempre a Civitanova, è risultato in possesso di 12 grammi di hashish e dei due spinelli acquistati poco prima. Il pusher è stato quindi denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Il cliente è stato invece segnalato alla competente prefettura per uso personale. Nei confronti di quest'ultimo i militari hanno proceduto anche alla contestazione della violazione delle presizioni in quanto spostatosi dal proprio domicidio senza valide ragioni.